Matteo Grandi, tu non vedevi l'ora di arrivare ai Rigori domenica, vero? Beh sì, ero felice perché sapevo che mi sarei potuto mettere in mostra un'altra volta, passando il turno per la felicità di tutti i compagni, anche per Furlan che era stata espulsa, che è il primo che è venuto a abbracciarmi. Domenica ai Rigori non si arriverà, ma cosa ti preoccupa di più del comma? Mi preoccupa il loro entusiasmo per affrontare questa partita, perché neanche loro ci aspettavano di giocarsi una finale di play-off, sicuramente troveranno di fronte una squadra molto augurita con la nostra che andrà là per giocarsi alla pista aperta. Quale dunque sarà o potrà essere l'arma in più vostra? La nostra, il gruppo, la voglia di arrivare alla fine e di vincere, questa potrà essere la nostra armi in più. Domenica sugli spalti a Como ci sarà anche tuo nonno? Sì, ci sarà, verrà su con la mia famiglia, sempre a incitarmi. Grazie. Grazie.